musica dunque ho deciso di cambiare sponda e di andare a fare le missioni zaibazzo appena trovo il telefono eeeh queste? ahia si ha a che fare con la pula si l'ho usata io quella andiamo vado piano perchè non si sa mai essendo anche la macchina della pula e volevi rubarmela marco giuda come la tengo su di giri poi dove si va? iiii questo è un mio amico eeeh faccio i carrozzi da di zaibazzo ok no 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 allora questa è una missione anche si facile ah adesso lo ammazza con dentro lui esci dalla polizia e lascia fare al crew vedete che c'era il tizio dentro e guardate un po' lavoro completato però non è finita perchè una volta che prendono leeeh i resti della macchina la mandano qua dentro per poi trasformarla in un oggetto oh in un oggetto ecco infatti questi non so cosa siano se sono soldi oppure la bustarella la bustarella che è quella per eeeh far sparire i poliziotti grazie